Ciao, allora come annunciato dalle previsioni finalmente Poppea è arrivata quindi sta portando in giro pioggia, vento e disperazione per tutti i turisti no scherzo, oggi la giornata è veramente brutta, sta piovendo, il cielo è grigio sembra una giornata invernale e devo dire che non mi dispiace più di tanto perché dopo tutti questi mesi di caldo esasperato, un po' di pioggia, un po' di acqua ci voleva e non solo per noi ma anche per le piantagioni, per tutto perché stava diventando una cosa molto seria quindi oggi non lavoro, non ho niente da fare, il mio fidanzato è al lavoro, il tempo è brutto giriamo un video allora di cosa parliamo? Parliamo finalmente dei pigmenti essence nel mio ultimo video avevo accennato a qualche novità che presto essence avrebbe sfornato e una delle tante novità sono proprio questi pigmenti allora vi faccio una premessa che è un po' la stessa premessa dei miei ultimi video o comunque degli ultimi mesi la mia premessa era quella appunto di non spendere soldi per makeup e di non spendere soldi in acquisti inutili nel senso che un conto se mi finisce il mascara, non ho più mascara, sono rimasta senza devo per forza andarmene a comprare uno per esigenza un conto invece è, non lo so, comprarsi un ombretto di una certa sfumatura per poi arrivare a casa ed averne altri due molto simili, molto vicini quelli sono gli acquisti che vorrei evitare nel senso non comprare più nulla se non è strettamente necessario perché magari appunto il prodotto è finito, perché si è rotto, perché è andato male o per qualsiasi altra motivazione ovviamente non c'era necessità di comprare anche questi pigmenti ma sinceramente era da un pochettino che li aspettavo e sono veramente contenta che essence abbia lanciato appunto questo nuovo prodotto da quello che ho capito adesso sono usciti in edizione limitata ma poi col passare del tempo dovrebbero diventare una linea continuativa quindi li dovremmo trovare sempre nel rifornimento dell'essence allora vi faccio vedere subito quali ho preso non li ho comprati tutti anche perché devo dire sono stata abbastanza fortunata lo stand l'ho trovato abbastanza integro nel senso che c'erano tutti i prodotti della linea c'erano i vari colori dei pigmenti c'erano i pennellini per applicarli c'erano la base per gli occhi, per le labbra e anche per le unghie allora questa qui è la brochure o il volantino dimostrativo appunto di questa linea e appunto questa nuova linea si chiama Color Arts sono i pigmenti colorati e infatti questi qua sono i pigmenti che abbiamo a disposizione con questa linea dal sito, se non mi sbaglio perché ho guardato su diversi siti diversi pigmenti però mi pare proprio che sul sito dell'essence guardando appunto le colorazioni dei pigmenti fossero molti molti di più rispetto a quelli che sono usciti adesso e per questo appunto vi dico che secondo me dovrà uscire una collezione permanente di pigmenti perché ho visto molte più colorazioni sul sito comunque andiamo avanti vi faccio vedere quali sono quelli che ho comprato io e cominciamo a fare insieme un po' di considerazioni riguardo al prodotto allora tiro fuori tutto l'armamentario dalla mia bustina OBS i pigmenti che ho comprato io sono solamente quattro quindi non ne ho presi appunto tanti non li ho presi tutti e adesso vi spiego il perché allora vi faccio vedere subito quali sono le colorazioni che ho scelto io allora questi qua sono i primi tre e sono tutte e tre delle pigmentazioni abbastanza colorate sono dei colori abbastanza accesi il primo è questo qua ed è questo un color secondo me è un misto tra un color terra e un color malva non saprei dare un nome preciso un colore preciso questo è il numero 14 che si chiama Strawberry Smoothie dovrebbe essere appunto come dice magari la scritta un color fragole tipo il frullato di fragola però vedete che ha delle colorazioni fondamentalmente di base e rosa però ha sicuramente anche dei toni di marroncino di marrone caldo molto luminoso e molto pigmentato se la videocamera mettesse a fuoco sarebbe anche meglio comunque questo poi ho preso questo bellissimo arancione fluo sapete che io quest'anno specialmente quest'estate mi sono particolarmente fissata con i colori fluo e questo è il numero 6 wow it's orange vi faccio vedere ok la mia videocamera non vuole collaborare e poi il terzo ultimo pigmento è questo bellissimo rosa barra fucsia molto acceso e molto pigmentato ed è il numero 12 e si chiama Miss Piggy's Wally Pop vi faccio vedere ecco sopra forse meglio vi faccio vedere sopra la linguetta colorata così riuscite a vedere meglio il colore perché dal barattolino la videocamera non mette a fuoco questo qui era l'arancione e questo è il primo che vi ho fatto vedere terzo ultimo pigmento che ho deciso di acquistare non è un pigmento colorato è il classico pigmento molti sfaccettato sono anche quei pigmenti barra brillantini che molto spesso vengono proposti anche per gli smalti sono quei pigmenti principalmente con sfondo argentato con tanti micro pigmenti o cristallini se si tratta appunto degli smalti di colore rosso di colore verde e questo mi piace molto perché crea proprio un gioco di luci scintillanti sugli occhi molto 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 bello quindi a differenza degli altri che sono diciamo dei colori uniformi da stendere questo crea un gioco di mille sfaccettature vedete anche la luce proprio come risalta oh la videocamera ha messo a fuoco strano ma vero così riuscite a vedere bene la trama diciamo la texture di questo pigmento e questo qui è il numero 4 Broadway Starlet e non potevano chiamarlo diversamente secondo me il nome è proprio azzeccato vi faccio vedere ok allora insieme ai pigmenti ho comprato anche il nuovo pennellino che l'Essence appunto ha fatto per l'applicazione di questi pigmenti è un pennellino con punte in silicone a forma di cuore in modo da rendere più facile l'applicazione ed evitare che il pigmento si possa disperdere perché con un pennello in fibre naturali il pigmento appunto svolazzerebbe da tutte le parti adesso ve lo faccio vedere lo tiro fuori dalla confezione eccolo qui fatto così e questa è la punta piatta in silicone vedete molto morbida e secondo me questo risulta eccezionale per l'applicazione sulle labbra consente di applicarlo in maniera impeccabile perfetta perché segue abbastanza la linea delle labbra insieme a questi prodotti ho comprato anche la base per gli occhi che mi sta cadendo che è questo tubicino qui azzurro e blu da 7,3 ml con scadenza pari a 6 mesi dall'apertura questa qui è la base da applicare sugli occhi prima di mettere i pigmenti in modo che possano rimanere diciamo anche più attaccati agli occhi il colore possa essere più brillante e durare anche di più non penso che più brillante si dica in italiano però vabbè allora vi spiego perché sono contenta e perché di questi acquisti e perché non ho potuto fare a meno di acquistarli allora dicevo che quando sono arrivata davanti allo stand l'ho trovato abbastanza rifornito quindi oltre alle colorazioni che vi ho mostrato adesso ce ne erano altre c'era il blu che non era questo azzurrino appunto che si vede qua nella brochure questo azzurrino con dentro questi pigmenti anche più chiari ma era questo blu qua devo dire che all'inizio l'avevo subito tirato su così distinto quella è la vena dello shopping è la vena proprio pazza che me l'ha fatto tirare su poi però riflettendoci ho detto cosa me ne faccio perché era un colore abbastanza scuro me li sono sfumata tutti sulle mani di modo da vedere appunto quali potessero essere i vari giochi di colore una volta sfumati bene e a mio parere risultava un po' troppo scuro per me per l'utilizzo che avrei potuto farne l'avrei utilizzato pochissimo perché è un colore troppo scuro che non si adatta molto al mio incarnato quindi ho preferito non prenderlo inoltre era disponibile anche questo marroncino qui il penultimo questo più scuro non c'era non l'ho trovato ma questo qui appunto che vi sto indicando il secondo era disponibile e anche quello devo dire che l'avevo tirato su e l'ho lasciato giù proprio all'ultimo il colore è molto bello è un colore un po' più delicato un po' meno pigmentato forse anche perché dai mini tester che c'erano ho fatto fatica a prelevare una grossa quantità magari anche per quello mi è sembrato meno pigmentato perché sono riuscita a prelevarne di meno però diciamo che come pigmentazione è abbastanza buona non l'ho preso perché possiedo già un pigmento di una colorazione molto simile molto vicina e visto che appunto non voglio spendere ulteriori soldi per prodotti che magari ho già a casa simili ho deciso di lasciarlo giù e questo perché perché ho già un pigmento di una colorazione che si avvicina molto della Barry M che mi è stato regalato da Karen alla quale mando un bacio grandissimo perché quando ci siamo incontrate ci siamo scambiati dei regalini lei è stata molto carina ha fatto un video dove ha mostrato i regali che ha ricevuto da parte mia io invece non ho pubblicato nessun video a riguardo ma non perché io non abbia voluto ma semplicemente perché è uno di quei tanti video che per diversi problemi non sono riuscita a caricare appena avrò l'opportunità magari vi farò vedere i regali che Karen mi ha mi ha regalato appunto così la ringrazio nel modo giusto comunque un pigmento molto simile a questo qua della Essence vi ripeto questo qui il penultimo è questo pigmento della Barry M quindi ho detto anche se si assomiglia molto ma non è uguale chi se ne frega non mi interessa avere mille sfumature di marroncino piuttosto che mille sfumature di rosa o di verde a casa quindi non l'ho preso vi faccio vedere comunque appunto il pigmento di cui sto parlando così potete rendervi conto se effettivamente gli assomiglia questo qui è il numero 39 della Barry M e come vedete dal fondo la colorazione si avvicina molto questo marroncino molto bello questo è molto light è molto lucente questo è il pigmento della Barry M e a mio parere richiama moltissimo quello lì della Essence quindi avendo già questo ho deciso di non prenderlo comunque anche il verde che si chiama Kiss the Frog devo dire che era abbastanza bello non l'ho preso perché sinceramente io di verdi ne ho già alcuni e non tutti mi stanno bene e quella la reputavo una delle tonalità non proprio adatte al mio incarnato al mio look o comunque al modo che ho io di truccarmi però vi consiglio se magari siete appunto una carnagione un po' più chiara se siete un po' biondine che questo colore sta meglio appunto su questo tipo di carnagione vi consiglio di prenderlo perché ha un pigmento veramente molto bello soprattutto alla luce del sole risalta tantissimo è un colore molto tenue molto lucente proprio molto molto bello quindi magari alle biondine a chi ha questi toni un po' più chiari un po' più delicati questo colore lo straconsiglio allora sono contentissima dicevo di questi pigmenti per tantissimi motivi perché perché i pigmenti in generale nelle altre diciamo case cosmetiche hanno un prezzo piuttosto elevato mentre questi pigmenti costano 2 euro e 99 quindi costano meno di 3 euro costano quasi 3 euro il barattolino non è grosso non è gigante non è come per esempio i pigmenti della Kiko che hanno un barattolo grosso così ma ragazzi diciamoci la verità ma che cosa ce ne facciamo di così tanto prodotto soprattutto se poi compriamo diverse colorazioni non li useremo mai tutti non arriveremo neanche ad un quarto della bottiglietta quindi secondo me sono soldi spesi inutilmente perché comunque più la dimensione è grossa del prodotto più quantitativo c'è dentro ovviamente più lo andiamo a pagare quindi sono contenta che abbiano fatto questi barattolini piccolini con la giusta quantità di prodotto e anche finire un barattolino di questo ragazze ce ne vuole ce ne vuole veramente tanto ce ne vuole veramente tanto di tempo quindi sono contentissima appunto del formato di questi pigmenti di questo barattolino che è da 6 mg sono contentissima del prezzo perché è veramente irrisorio 2,99 euro sono contenta anche dalla qualità perché a me le sono sbocciate per bene sulla mano e mi sono durati per più di un'ora facendo diverse appunto cose in casa comunque toccando con le mani dappertutto scusate ho ancora qualche rimasuglio di tosse quindi io mi sento veramente di consigliarveli sono pratici da portare in borsetta perché sono piccolini magari li teniamo in una pochettina apposta perché se si dovessero aprire per disgrazia avremmo la borsa veramente multicolor per quanto riguarda i prodotti appunto coordinati di questa linea vi ho già fatto vedere che io ho acquistato il pennellino e anche la base per gli occhi c'erano disponibili anche appunto il diciamo top coat per utilizzarlo appunto sulle unghie come smalto l'idea non mi attira più di tanto perché gli smalti sono molto pieni gli smalti con i brillantini con i glitterini sono pieni quando vado a mettere lo smalti ho sempre tantissimo tempo appunto a disposizione già di per sé per farlo asciugare quindi figuratevi se devo stare lì a miscelarmi i pigmenti assolutamente è una cosa che non mi attira più di tanto da provare sulle labbra forse è una cosa da provare da fare potrebbe essere interessante molto bello il risultato però io generalmente sono una che quando si trucca magari cura molto il trucco degli occhi del viso e tende sempre a dare poca importanza alle labbra a volte non metto quasi niente se non un burro cacao per tenerle idratate quindi non mi attira tantissimo l'idea di utilizzare i pigmenti sulle labbra anche perché secondo me risultano scomodi proprio per il tipo di applicazione magari a casa quando ci prepariamo con calma possiamo anche appunto utilizzarli basta mettere un pochettino di base appunto sulle labbra e poi con il nostro pennellino andare a prelevare il prodotto e passarlo sulle labbra però se dobbiamo uscire e stare in giro non è molto comodo appunto per andare a ritoccarlo dovremo portarci il pigmento dietro dobbiamo stare attenti che la polverina non cala che non si apre il barattolino quindi insomma per me non è molto utile e non è molto pratico vi dico anche il prezzo appunto di questo che mi pare sia sempre o 2,99 adesso aspettate che vada a vedere sì no 2,29 quindi 2,29 è il prezzo appunto della base 2 invece e 99 è il prezzo dei pigmenti mentre il prezzo del pennello adesso vi dico anche questo così vi ho detto tutti i prezzi è di 1,59 quindi il risorio ne ho presi addirittura 2 perché il prezzo veramente è molto molto basso niente ragazze avevo preso un pigmento anche da mettere da parte per voi per un giveaway e avevo preso appunto questo qui il numero 12 ma ironia proprio della sorte sono arrivata alla cassa io ho buttato tutti i prodotti lì sul bancone la ragazza mi ha fatto il conto ho pagato con il banco e poi ci siamo accorti che era rimasto un barattolino un pigmento fuori dal conto e sinceramente di pagare con il banco mat 2,99 non era proprio il caso quindi appena tornerò allo stand dell'essence andrò a vedere un altro stand essence perché dove abito io ne ho due abbastanza vicini uno addirittura dove lavoro io e uno vicino a casa appena avrò tempo andrò a vedere anche quello vicino a casa così vado a vedere se è arrivata anche lì appunto la collezione dei pigmenti e questa volta ne prenderò uno anche per voi io vi mando un bacio spero che il video vi possa essere stato utile specialmente per quelle ragazze che magari non hanno essence vicino a casa oppure ce l'hanno ma la collezione non è ancora arrivata ciao